ad auronzo lanciata la nuova linea di pizza sushi la pizzeria gnomo goloso diventa così una delle dieci in tutta italia a proporre questo tipo particolare di pizza ideato dall'ispettore stellato della guida peperoncino rosso lo chef pizzaiolo friulano giovanni mascari avevo voglia proprio di sviluppare sul sul lato ristorazione un prodotto completamente differente multivalente ecco ci sono riuscito da prendendo spunto dal dal sushi però attenzione non parliamo di sushi parliamo sempre di pizza un prodotto multivalente perché perché si sposa con l'aperitivo si sposa con l'antipasto si sposa come portata unica quindi qui a voi tutti potete abbinarlo come meglio credete insomma per l'occasione del lancio del nuovo prodotto la pizza sushi è arrivata direttamente dopo un giro in elicottero sopra auronzo il cadore la giusta vetrina prima di poter essere assaggiata dai presenti patron che ha già ricevuto diversi premi in passato per le sue pizze ha deciso così di diversificare ancora una volta l'offerta a disposizione di turisti e residenti con questo particolare tipo di pizza questa scelta l'abbiamo fatta per diversificare tutto quanto quello che c'è qua nel cadore come ha detto giovanni non c'è nessun altra pizza così qua nel titone san 10 pizzeria in tutta italia noi siamo arrivati qua sei anni fa con nessuna spettativa la pizzeria era una pizzeria che andava male l'abbiamo presa in mano sei anni fa da sei anni a sta parte ci siamo diversificati da tutti siamo diversificati da tutti siamo diversificati da tutti